Siamo qui con Andrea Albani che è direttore del circuito di Misano, anche il circuito di Misano come quello del Mugello hanno ovviamente partecipato al progetto KISS Misano. Quali sono state le risposte dal punto di vista del mondo del motociclismo rispetto a questo progetto che riguarda poi la raccolta differenziata e poi ovviamente con scopi anche benefici? Di certo noi abbiamo iniziato questo progetto proprio per iniziare un processo di sensibilizzazione di un pubblico che è abbastanza variegato, noi abbiamo la MotoGP e quindi c'è un momento di grande affluenza, parliamo di oltre 158 mila presenze che arrivano, consumano e non sono di certo formati in questo momento, sono talmente distratti dalla gara che ci vogliono tutta una serie di azioni Grazie alla Rite Hub siamo riusciti in qualche modo a creare quelle condizioni di sensibilizzazione. Il primo passaggio è questo, che riguarda gli aspetti del resto delle gare, quindi il via vai dei team, dei piloti in paddock, riteniamo che con l'esperienza raccolta in questi due anni di KISS Misano si è iniziato un percorso educativo che poi speriamo dovrà diventare un fattore anche culturale, quindi ci vorrà un po' di tempo per interiorizzare quelli che sono questi valori per noi fondamentali, non solo per noi ma per il tema intero ecosistema, per cui questa esperienza che abbiamo con KISS Misano è assolutamente fondamentale. Le risposte sono positive, dai dati di ERA che ci sostiene anche, perché riguarda una fase di materie reciclate, siamo arrivati oggi al 48% in occasione della MotoGP, chiaramente numeri alti, però il nostro obiettivo è di riuscire ad aumentarli. Però questo significa che il progetto prosegue anche a di là del MotoGP? Sì, noi in realtà nel 2016 eravamo pronti ad accoglierlo perché avevamo già iniziato un nostro percorso, di fatto già da qualche anno abbiamo fatto degli investimenti infrastrutturali importanti, per cui sulle tribune coperte abbiamo realizzato un bel impianto di fotovoltaico che ci permette di recuperare il 30% di energia in maniera autonoma, abbiamo realizzato un progetto molto importante sul rumore, per cui abbiamo creato delle zone di copertura con del materiale ad hoc per evitare delle barriere anti rumore bene organizzate e oggi abbiamo delle centraline che tengono monitorato costantemente il nostro impianto e sono collegate agli organi competenti e devo dire che non abbiamo mai sforato i decimi previsti delle leggi. A questo l'investimento ultimo che abbiamo fatto in termini di infrastruttura e il rifacimento e l'ampliamento del paddock con un nuovo impianto fognario che ha visto anche il coinvolgimento della comunità di Santa Monica che è attaccata al circuito, per cui devo dire che dei passi sono stati fatti e oggi possiamo essere pronti per anche implementare quel percorso fatto con il KISS. Ma Valentino Rossi ha fatto la raccolta differenziata? Diciamo che è uno dei sostenitori, uno dei testimoniaco che è Yamaha, il team Yamaha è uno dei team insieme anche a Ducati e tanti altri, il team di MotoGP che ha una struttura organizzativa attesa anche alla sostenibilità ambientale, è un tema molto importante. C'è una partecipazione anche da parte delle aziende, sia dal punto di vista del reciclo, dell'eccedenza alimentare, ma anche da un punto di vista sociale e etico. Noi quest'anno abbiamo realizzato una bellissima iniziativa con la Papa Giovanni XXIII, per cui abbiamo accolto 600 spettatori disabili in maniera non banale, perché posizionare 600 persone in un contesto di 158 mila e in un'infrastruttura che si estende su tantissimi metri quadri non era proprio semplice. Attraverso il supporto della Papa Giovanni siamo riusciti ad ospitarli in maniera veramente egregia. Avete devoluto anche... Abbiamo anche devoluto, abbiamo fatto una raccolta, un'asta di beneficenza che prevede anche la raccolta e devo ringraziare tutte le case costruttrici che hanno donato degli oggetti firmati dai piloti, tra cui uno anche di Valentino e quindi insomma tutto quello che è stato raccolto è stato devoluto con grande piacere a questa sottosizione. Abbiamo citato lui ovviamente in nome di tutti i piloti, chiaramente. Diciamo anche per correttezza che al Mugello invece l'asta di beneficenza è poi andata all'ospedale Pediatrico Meier di Firenze ovviamente. Ricordiamo anche che questo progetto, Chismisano, è realizzato in partnership e in collaborazione con il sistema consortile che prevede appunto Comieco, Cial, Coreve, Ricrea e Coreplan. E noi ringraziamo quindi Andrea Albani, ricordiamo direttore del circuito di Misano per essere stato con noi, per averci parlato del progetto ma anche per averci spiegato come un circuito così importante poi si è apprestato, si appresta ma ha già passi avanti, ha compiuto già passi avanti su questo percorso, verso la sostenibilità insomma. Certo. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie a te. Salve.